Convivio delle fabbule agriturismo Trigna Il primo novembre l'associazione Traiectorie, all'ora di pranzo, propone presso l'agriturismo Trigna il Convivio delle Fabbule. Un'occasione di incontri di festa con cibo tipico e di stagione, le fiabbe di Apuleio, Basile, Calvino e le musiche della tradizione mediterranea, e seguite dal trio femminile delle Assword di Cristina Vetrone, Lorella Monti e Enza Prestia, uno dei gruppi più apprezzati del panorama internazionale della World Music. Convivio delle fabbule agriturismo Trigna, località Trigna, alla Mezzia Terme.